Ha un nome e un volto chi avrebbe travolto e ucciso in sella la sua bici Roberto Brotto, dirigente amministrativo nel settore bilancio nell'ospedale cittadino dell'Uss6 e Uganea. I carabinieri di Bassano, del Grappa e di Asiago, in poco più di 24 ore, sono arrivati a individuare chi era alla guida dell'auto. L'identificazione è venuta nel tardo pomeriggio di ieri, l'investitore è di Marostica. Nei suoi confronti è stato disposto il fermo e l'interrogatorio del Pubblico Ministero della Procura di Vicenza, che si è protratto fino alla tarda serata. Il magistrato ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo aggravato per non essersi fermato a prestare soccorso. Gli investigatori sono risaliti all'uomo grazie ai pezzi del veicolo recuperati sul luogo dell'incidente, in particolare frammenti di vetro e uno specchietto retrovisore. Sono state quindi effettuate verifiche sui modelli d'auto e sui carrozzieri. Ad aggravare la posizione dell'indagato c'è il fatto che forse Brotto poteva essere salvato. Tra le ipotesi del PM infatti c'è quella che il dirigente non sia morto sul colpo ma alcune ore dopo l'incidente. Sarà comunque l'autopsia che la Procura ha già disposto a stabilire l'ora del decesso, in base alla quale si potrà sapere con certezza se un soccorso repentino avrebbe potuto salvare la vita al dirigente sanitario. Qualora questa ipotesi dovesse essere confermata, le accuse per il pirata della strada, che deve già rispondere di omicidio stradale, si aggraverebbero pesantemente.